Ciao amici, sono Diego, se questo video è realizzato per ringraziare Anastasia e Panaccio perché mi hanno regalato queste, sono delle cuffie da DJ che userò sul computer. Vi domanderete, ma perché cuffie da DJ? Diego mica fa il DJ? In effetti, no, ma le voglio sul computer, semplicemente. A parte va che figata il suo sacchettino da trasporto perché sono trasportabili. Io le ho volute da DJ semplicemente perché non hanno il microfono, che a me non serve perché uso questo. Eccole qua, sono cablate, non si vede il filo ma vi mostrerò perché. Sono proprio carine, nere perché qua è tutto nero, ma ora andiamole a vedere più nel dettaglio. Nella confezione sbarluccicante troviamo le cuffie con il suo sacchettino bellissimo, in caso bisogna portarsene in giro si richiude tutto qua dentro. Un cavo corto che serve per collegare al telefono, infatti non avendo, o al computer, non avendo il microfono integrato nella cuffia, possiamo utilizzarle sul telefono perché questo cavetto ha il microfono qua, sul cavetto proprio, c'è il tastino per rispondere alle chiamate e il microfono. In questo caso, cioè nel mio caso, questo non lo utilizzerò, almeno che casi eccezionali le devo usare sul portatile di mio figlio, ad esempio, con questo cavetto si risolve il problema, si ha anche le cuffie. Quest'altro cavetto invece, con questo jack grosso, è quello che io andrò a utilizzare per collegarlo al mixer al mio computer perché qua sotto abbiamo il suo jack ed ecco fatto. Guardiamo un attimo il libretto cosa ci dice, vabbè, i vari collegamenti, sembra un rotolo di carta igienica. I driver, cioè gli altoparlantini che sono dentro le cuffie, sono da 50 mm, una misura accettabile, diciamo, va bene. Per questo tipo di cuffie va più che bene, anche perché se non sbaglio quelle più grosse al massimo arrivano a 60. La risposta in frequenza va da 20 Hz a 40.000 Hz, a 40 kHz. Dopo faremo una prova quando le avrò collegate al computer. Altra cosa figa, qua ci possiamo andare a collegare in cascata un altro paio di cuffie, di auricolari, insomma, anche se si è in giro col telefono e uno sta ascoltando la musica con questo, c'è l'amico che può collegarsi qua e ascoltarsi pure lui la musica o eventualmente anche una chiamata. Sembrano abbastanza solide e snodate, cosa comoda perché almeno si adatta bene al cappuccione. La spugnetta è proprio bella morbida, sopra, anche sopra, qua è tutto morbidoso, c'è l'archetto dentro in acciaio che stringe e possiamo, per forza, regolare l'ampiezza, la lunghezza dell'asta in modo che si adatti a tutti i capoccioni. Il cavo è lunghissimo, quindi arriva benissimo dietro al mio case senza problemi. E nell'ultima parte c'è quest'altra cosa qua, intelligente, che è una molla, in modo che se tiriamo un po', non strappiamo, non tiriamo giù la Playstation, non spacchiamo tutto, insomma. Abbiamo un po' di ammortizzazione. Non mi resta che andare a collegare il jack e fare qualche prova audio. Si sentono davvero bene. Ho fatto una prova anche in un paio di videogiochi, tipo a me piacciono molto i videogiochi dove si spara, da Fortnite a Escape from Tarkov, le esplosioni si sentono benissimo perché i bassi sono molto più forti rispetto alle mie vecchie JBL. Sono molto più alti, senza andare a discapito però ad esempio degli alti perché si sentono benino anche quelli. Sembra che si sentano molto meglio di quelle. Vabbè, quelle ormai sono cadute un po' di volte, saranno anche un po' usurate visto che è da tre anni che le uso. Ma queste vanno davvero bene. Orca vacca, che bassi! Mi trema il capuccione! I bassi sono spettacolari di queste cuffie. Prima abbiamo detto che sul manuale dice che ha una risposta in frequenza dai 20 Hz. Ce ne accorgiamo subito con questo test che se vado a fare play dovrei subito avvertire il suono ai 20 Hz. E infatti sì. Devo dire che si sentono davvero bene, 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 bene. Sono una figata tremenda. E devo dire anche che alzando il volume sento molto più forte da queste rispetto a quelle che avevo prima, le JBL, che è una marca più conosciuta e sono molto più costose le JBL. Però ripeto, quelle ormai è tre anni che le uso. Magari hanno anche ragione di non funzionare più tanto bene. Grazie Anastasia, grazie Panaccio. Sono felicissimo del regalo che mi avete fatto. Ormai userò solo queste. E da un po' che ce le ho su, devo dire che sono comodissime. Non danno fastidio, sono belle leggere. Non sono di quelle che ti occupano tutta la testa ed estate ti fanno sudare. Devi tenere l'asciugamanino per asciugarti. Che figata, sono felicissimo. Grazie mille.